ehi la ciurma io sono mazietest e benvenuti in questo nuovissimo episodio di non è un nuovo episodio in realtà questo è un vlog sì così è un parliamo ho preso al balzo diciamo la proposta che mi ha fatto commentatore video nello scorso episodio di mind test e ho detto ma sì perché non fare un episodio in cui chiacchieriamo un attimo visto che adesso ho una webcam posso parlare un attimo con voi devo ricordarmi di guardare la webcam e non guardare lo schermo comunque parliamo un po come potete vedere sono ritornato all'attività gli esami sono finiti e rinizieranno a settembre spero a settembre di non avere troppi impedimenti per la programmazione e di mantenere la programmazione costante gli esami adesso a giugno luglio sono andati discretamente bene speravo meglio ma uno davvero sembra che i prof l'abbiano fatto apposta per stangare tutti perché siamo andati in 64 provarlo sei hanno passato lo scritto e quattro hanno passato anche l'orale quindi era proprio una cosa oddio cioè sinceramente non avevo mai visto un esame di quel tipo di quella materia nonostante avessi fatto gli esami passati quello è stato proprio una trambata in faccia avete presente proprio quelle trambate quindi niente la situazione degli esami è stata abbastanza questa ora sono passati e ce ne saranno altri infatti sto studiando ancora sempre come sempre anche se è estate uno dice è estate vacanza no io sono studente universitario quindi le vacanze non esistono proprio a meno che non sei un secchionazzo e passi tutti gli esami subito c'è sempre qualcosa a cui pensare a cui da ripassare da ristudiare oppure da portarti avanti ecco ma direi che possiamo chiudere anche il discorso esami poi non so se avete qualcosa da commentare ma dubito sono questione mie personale quindi credo che non vi rifreghi molto era giusto così commentatore video ha detto parla anche degli esami boh ho detto due parole non so neanche tanto cosa dire però questo è probabilmente non avere frega un caso altro argomento di cui volevo parlare sono le serie future tra l'altro c'è un piccolo blocco note qua da qualche parte dove sto leggendo la programmazione serie future allora innanzitutto spore sta aggiungendo il termine come ho già detto tempo fa come ora è ripetuto una volta che mi ha raggiunto il centro del glass e quindi raggiunto un po' l'ipotetica fine questa è la fine della serie di spore sto temporeggiando un po' uno perché è xenon barra armageddon e mi ha supportato molto diciamo come iscritto e come amico e mi ha suggerito anche in un qualche modo la serie successiva da fare mi sembrava anche un favore che potevo fare di quello di aspettare inizia la nuova serie quando lui ci sarebbe stato e non fosse stato in vacanza ma comunque ho visto che molti di voi sono in vacanza comunque c'è un'attività un pochettino più rallentata per quanto riguarda i commenti mi piace le visualizzazioni e quindi dico forse non è il momento giusto agosto per iniziare una nuova serie quindi lasciamo finire spore un po' così lasciandola un po' arenare con gli ultimi episodi che non sono particolarmente esaltanti perché non c'è molto progress ma anche perché alla fine la maggior parte di quello che si poteva fare è stato fatto gli episodi sono stati già 60 e più nel sessantesimo siamo arrivati a quello che è il centro della galassia scusate e quindi forse non lo so arriveremo a 64 66 non lo so 62 63 no forse è già uscito il 62 beh comunque arriveremo intorno a 65 episodi e si concluderà là per dare poi spazio a settembre per poter iniziare la nuova serie tra l'altro in particolare per la serie nuova in concomitanza con la serie nuova con l'inizio della serie nuova e per celebrare anche i 300 iscritti che abbiamo raggiunto da non molto tempo diciamo forse la settimana scorsa se non sbaglio poi dipende anche da quando uscirà questo vlog ci sarà una sottospecie di contest che vi anticipo già e che sarà una sorta di caccia al tesoro che sono ancora realizzando un po' probabilmente anche in collaborazione con play repets il mio amico lorenzo repetti che anche un canale di gaming conoscete ma anche fa anche parodie tipo una serie bella su the lady e sta facendo una web serie adesso ulisse che tra l'altro è molto carina vi invito ad andare a vedere e niente non ho ancora molto da dirvi ci sarà poi un video particolare però vi anticipo ci sarà probabilmente un contento con un giveaway cioè più non è un giveaway con una chiave una barra due chiavi premio adesso devo ancora capire finire di organizzare il discorso e quindi state aggiornati seguite il canale perché appunto fine agosto inizio settembre dovrebbe esserci questo contest sempre per parlare delle serie future magic continua probabilmente quando adesso ho iniziato la parte di eldritch moon mi sfugge sempre il nome e niente porteremo a termine eldritch moon e vediamo un po' se uscirà un nuovo aggiornamento e quando però non ho sentito niente riguardo a un prossimo aggiornamento dopo di eldritch moon ma arriverà prima o poi e cosa fare mentre non ci sarà ancora uscito un aggiornamento di eldritch moon perché eldritch moon credo in una o due settimane di concluderlo perché comunque restano non mi ricordo a che punto sono arrivato da che punto voi avete visto che sono arrivato però comunque diciamo che per domanchino tre quattro episodi e tre tre quattro partite per concludere eldritch moon alien breed era la serie che alternavo magic prima no come saprete e avevo fatto alien breed 1 che ho portato termine ovviamente essendo una trilogia ci sarebbe alien breed 2 alien breed 3 che ovviamente ho già in libreria e l'intenzione in origine era quella di continuare con alien breed 2 alien breed 3 non so effettivamente quanto lo farò perché ho notato davvero che alien breed 1 è stato seguito pochissimo non è mai stato quasi commentato a parte degli iscritti ricambi che quelli commentano qualsiasi cosa io faccia cioè non lo so mi è morta la nonna iscritto ricambi sono finito in ospedale iscritto ricambi bellissimo video oddio però se ti iscrivi rimani attivo e quindi a parte qualche iscritto ricambi non ha avuto molto molto successo alien breed 1 e quindi sono un po titubante sul se fare alien breed 2 alien breed 3 perché è un gioco che a me piace giocare però ovviamente non tutti i giochi cui a me piace giocare poi piace vedere e ci stanno perché non tutti i giochi hanno le caratteristiche per essere belli da vedere no ma lo so anche io che come youtuber comunque sono un frequentatore attivo di youtube e non è che sempre apprezzo delle serie no ci sono vari canali a cui sono iscritto ma non è che seguo tutte le serie che fanno tipo la serie su pokémon go ma non me ne frega un kaiser cioè io gioco a pokémon go ok ne parliamo magari un attimo dopo di questo ma non me ne frega un kaiser di vedere una serie su pokémon go perché non me ne frega niente cioè nel senso vedo dei tizi che girano oh guarda catturo la palestra oddio ho preso dei rivitalizzanti sto camminando cosa vuol dire camminare oddio oddio e niente quindi a me non frega niente il pokémon go ma è un affare che tira e come anche attirato a un tempo quello che è clash of clans adesso c'è clash royale quando me ne frega un kaiser e quindi capisco che voi possa non fregare niente una cipalipa di niente di alien breed potrei giocarmelo per conto mio e boh quindi c'è una possibile serie futura a cui sto pensando però su un gioco che sta per uscire cioè in realtà non so se sta per uscire o no cioè o non lo so molte idee tra l'altro se avete dei suggerimenti ovviamente su cose non troppo costose se non ce le ho o se sono cose che io posseggo che mi interessano suggerite e niente quindi dovrò valutare un attimo che cosa fare un'idea era una serie ma molto molto lunga e richiederebbe tantissimi episodi e non so quanto si possa sposare con questo alternarsi continuamente con magic perché con gli aggiornamenti che escono di magic dovrei continuare a riprenderlo altuariamente per continuare la campagna che viene aggiornata di volta in volta finché non mi rompo ovviamente finché non si rompe la casa produttrice di magic di fare degli aggiornamenti e quindi quello sarà da valutare altro discorso che volevo fare su possibili serie aspettate che leggo un attimo qui fine di sport ed ubisorio in breed possibile serie nuova true contest per serie che sostituirà sport e questo l'ho detto ah ecco ultime due cose sulle serie future o comunque sulla programmazione questo può in particolare un argomento legato a colosso game che è un nostro iscritto un nostro membro della turma vai cross game curma forever che aveva proposto di fare una serie su shop e keep è un giochino carino forse non da tantissimi episodi però è un giochino carino e niente il fatto è che un tempo costava molto di meno adesso è cresciuto di prezzo ed è quasi mai scontato ho contattato la casa produttrice per dire ehi sono un bellissimo youtuber non è che possiamo arrivare a un accordo che non lo paghi tipo 10 euro solo per fare quattro puntate e non mi hanno risposto ovviamente e anche perché sono piccolissimo c'è 300 iscritti uno cosa ne frega di uno con 300 iscritti sto aspettando ce l'ho in wishlist su steam e quando sarà con un discreto sconto magari lo comprerò adesso non mi va tanto di buttarci sopra dei soldi perché io naturalmente da youtube non guadagno un niente un niente nel senso se conto da quando ho iniziato la partnership adesso che sono forse un anno e mezzo o una cosa del genere avrò guadagnato boh ma neanche da farmi neanche da comprarmi la pizza margherita probabilmente neanche 5 euro avrò fatto quindi comprare un shop equip a praticamente 10 euro vorrebbe dire comunque un discreto investimento se voglio farlo solo per il canale è un gioco che è carino ovvio ma forse non lo che comprirei subito quindi se è scontato probabilmente lo farò se ci sono altre persone che sono interessate a una serie su shop equip me lo scrivono nei commenti e ci penserò più intensamente non è detto comunque che la faccia nel senso che bisogna vedere un po' quali sono le condizioni per farlo e spero che il colosso game non si offenda se gli dico appunto che se devo comprarlo a prezzo pieno sinceramente non sono molto portato a farlo ultimo punto è come avete potuto vedere nel periodo esami ho fatto varie recensioni tra l'altro una deve ancora uscire perché il gioco non ho ancora finito di valutare non ho ancora finito di giocarlo proprio quindi non è che posso recensirlo e volevo sapere un po' cosa ne abbiate pensato nel senso che a me è piaciuto perché è stato un genere di video diverso in cui ho messo un po' la prova anche alle mie abilità di editing perché come avete potuto vedere è stato molto più editato ho lavorato di più sull'audio, ho lavorato di più sul commentary, ho lavorato di più sulla qualità dell'immagine sulla musica di sottofondo è stato davvero un lavoro che secondo me mi ha arricchito mi ha portato via un po' di tempo effettivamente ed è stato più impegnativo di quanto non avessi pensato all'inizio perché quando mi sono imbarcato in questo ho detto ma sì qualcosa per passare il tempo che non mi rubi troppo tempo in realtà mi ha rubato troppo tempo però mi è piaciuto nel senso che io ho avuto la possibilità di entrare in contatto con alcune alcuni publisher provare dei giochi nuovi che non conoscevo a parte American Joke Simulator a cui avevo già giocato tipo 140 ore a Euro Truck Simulator 2 e una ventina di ore a Euro Truck Simulator 1 era un gioco che abbastanza conoscevo ma gli altri sono stati abbastanza nuovi per me sto continuando a dire abbastanza sto continuando a dire abbastanza e quindi tipo Stories che ho amato tantissimo Ocean Horn che mi è piaciuto davvero un sacco Turmoil che mi ha divertito e ho anche i tre che mi hanno andato a trovare a GTP che sono stati Plantera Clicker Heroes Tap Hero Dix non mi ricordo più neanche i miei nomi che erano carini un passatempo che ho apprezzato per quello che sono durati forse ci avrò giocato massimo 5 ore l'U ma neanche uno ci avrò giocato un paio di ore però è stata una bella esperienza sono stato contento di questo e mi piacerebbe sapere anche cosa ne avete pensato voi visto che non sono state molto seguiti come video nel senso che molti magari non erano interessati da una recensione che Kaisen me ne frega non è che divertente una recensione un gioco che non conosco e me ne frega un Kaisen non è una... una recensione di Doom 600.000 iscritti ma Doom non mi interessa non ho i soldi per comprarlo quindi ho fatto delle recensioni su altre cose che a me sono piaciute tanto nel senso che non per forza un gioco che ti costa 80.000 euro è un gioco più bello di uno che non ne costa 10 guardate per esempio il successo che ha avuto Minecraft Minecraft ha venduto milioni e milioni e milioni di copie costando quanto? 20 euro? 18,99 euro forse costava una volta e ha venduto di più di un... non lo so di un... di una aquale... che ne so io magari non facciamo paragoni sui numeri precisi però ha venduto di più di giochi che costavano un sacco di soldi quindi non per forza prezzo uguale qualità ecco cioè prezzo uguale qualità può essere ma prezzo uguale divertimento non per forza e niente quindi a me è piaciuto tantissimo spero che a qualcuno di voi sia piaciuto questo diciamo excursus non è detto che io non faccia delle altre recensioni in futuro perché se avrò dei contatti interessanti qualche collaborazione interessante su giochi che mi piacciono il giocarli per conto mio mi piace non ci faccio magari una serie ma un episodio in cui faccio la recensione può essere bello perché il lavoro alla fin fine è poi quello di editing alla fine perché io registro mentre gioco quindi gioco e cosa me ne frega che nel frattempo sto registrando non è che devo registrare il mio audio, impegnarmi, pensare, dire aspetta taglio questo magari non dico quest'altro gioco e poi dopo faccio un copy and colla in cui commento che è stato il gioco come l'ho trovato altro punto sarà contento adesso commentatore video perché ho fatto tutto sto discorso qua e ancora non ho fatto niente sul changelog di mindtest per cui adesso vado un attimo a modificare la scena qua su OBS per portarmi un pochettino piccolino qui ecco adesso dovreste vedermi più piccolino mi sposto via di qua ok no così va bene ecco potete vedere qui dovrebbe essere apparso ecco la finestra di del browser in cui c'è il changelog di mindtest 0.4.14 che è stata rilassata tra l'altro il 15 maggio ma ancora non avevo fatto niente al riguardo perché appunto mi sono un po' interrotto a fine maggio quindi non ho più fatto niente al riguardo per i cambiamenti più importanti quelli probabilmente li potrete vedere nella serie di mindtest quindi se siete interessati a vedere i cambiamenti più importanti dal vivo sul gioco seguite la serie su mindtest che ho ancora attiva la seconda stagione qui invece andrò a declamare declamare a raccontare un po' alcuni aggiornamenti che ci sono stati che sono interessanti ma che non per forza sono influenzeranno il nostro giocare ecco iniziamo subito dalle features ad viewing range GUI setting semplicemente hanno aggiunto delle impostazioni per modificare il range a cui vedi no? quello che un tempo era semplicemente R adesso puoi impostarlo in modo diverso la nuova tab diciamo la nuova scheda che c'è prendo mindtest sulle impostazioni contiene ora tutte le impostazioni tutte le possibili impostazioni mentre prima ne va giusto quelle che servivano di più mentre altre bisognava andare per esempio sul file txt o comunque andare a modificare delle altre cose questo non l'ho capito un autorun in stile world of warcraft boh c'è wav credo che sia world of warcraft ma non so cosa c'è entri con mindtest questo non ci interessa questo non ci interessa cioè perché questo dice ora c'è il supporto per la possibilità di un audio feedback se è fallito il piazzamento di un nodo quindi 3d mode play page flip niente la generazione delle vallate è un'ottima cosa hanno aggiunto il comando admin che indica chi è il server l'admin del server che questo è anche molto interessante ehm hanno aggiunto un'opzione più per clear objects la minimappa ora indica i sembra i marker sono tecnicamente i tipo dei segnalibri no? sapete come quando andate su google maps mettete magari un punto che indica una posizione precisa dovrebbe essere quello non ho capito né come né dove sono stati aggiunti ma boh sembra una cosa interessante anche perché la minimappa è molto utile ehm hanno aggiunto il supporto per i caratteri non asci quindi con unicode per intenderci lettere accentate dentro la chat console quindi possiamo anche scrivere per esempio in italiano con le lettere accentate e scrivere perché in chat questo è quello che significa per noi non anglofoni questa è una notizia importantissima che tra l'altro andremo a vedere probabilmente in futuro note box solo note box to connect vuol dire in pratica che ora è molto più ben fatta la connessione tra oggetti quali le fence o i muretti di pietra perché adesso per esempio la fence si collega a un pezzo di legno cioè prima mentre se avevi un pezzetto di legno qui e una fence qui la fence era collegata solo con le altre fence ma non con il pezzo di legno e ora invece si collega con tutti i pezzi di legno da quanto ne so e il muretti di pietra si collega con tutti i pezzi di pietra se metti la pietra e la fence non credo che si colleghino comunque questo andremo poi a vederlo eeeh ho aggiunto le impostazioni per cambiare il formato dello screenshot ma non è niente di interessante bug fixing si non sono gran cose c'erano alcuni glitch per esempio questo qua dell'oggetto impugnato in mano è stato fixato anche un affare sui bottoni sui bottoni hardware diciamo su android perché tra l'altro non ne abbiamo parlato ma anche mine test adesso ha una versione android un'altra cosa che vorrei andare poi a provare in game è quello di fix jumping at node edge perché secondo me vuol dire quel bug per cui per esempio si poteva usare si poteva usare un finto ascensore andando all'angolo premendo spazio e tenendo premuto shift perché continuava a restare bloccato sui vari sui vari limiti diciamo dei blocchi ed era come se fosse sospeso per aria era un po' un bug ma che c'è dall'inizio di mine test eeeh credo che abbiano sistemato quello sarebbe da vedere perché potrebbe cambiare varie cose in game un tempo lo utilizzavo quel bug era molto utilizzato per esempio per ascensori o altri tipi di movimenti diciamo che adesso potrebbero non essere più possibili un po' delle questioni per il modding che a noi interessa poco o niente se voi siete dei modder probabilmente lo sapete già quindi non vado a soffermarmi troppo su questo perché appunto quello che riguarda più che altro il creatore di mod mapgen hanno fissato delle altre cose sui dungeon che avevano sempre delle cose fluttuanti dei discorsi così hanno fissato il fatto che ogni tanto c'erano dei blob di minerali hanno aggiunto la 4d fractal mapgen che in realtà non ho ancora ben capito cosa consiste le caverne interne dovrebbero essere più grandi quelle che qua chiama pseudo random caves cioè generate casualmente che non è poi proprio casualmente è pseudo casualmente come dice qua nella mapgen v5 v7 nella flat e nella fractal hanno aggiunto delle cose per la fractal hanno aggiunto i dry river beds per la mg valleys e questo non so cosa voglia dire e qua hanno diminuito la ripidità diciamo delle colline nella versione 7 della mapgen questi sono dei miglioramenti generici ah questo è interessante ma credo che sarebbe andare da controllare nei server in cui dopo che non accedo aggiungono il nome del player all'oggetto che è stato droppato quindi se viene droppato un oggetto si sa chi è stato dropparlo niente di particolarmente interessante si vabbè questo hanno standardizzato i bottoni del menu per ordine e dimensioni hanno fatto dei nuovi lavori sulla TNT hanno aggiunto delle API per la TNT che possono modificarne gli effetti hanno aggiunto delle API alle porte e quindi aggiunge delle nuove features alle porte per esempio adesso quando vengono messe due porte ovviamente una accanto all'altra una viene considerata come porta destra l'altra come porta sinistra e quindi si aprono in questo modo e non più come prima che si aprivano tutti e due così nella stessa direzione adesso un po' come in Minecraft in cui se ne hai due vicine si aprono come se fossero appunto come se fosse un portone ecco come se fosse una specie di portone di cancello con due porte ecco vai la e lo apri così oppure respingi tutti e due così in questo modo che tra l'altro è una bella novità Fence Wall e Fence Gate API sono state aggiunte quello là anche sempre per controllare appunto le connessioni oppure per andare a effettuare delle mod che interagiscono con quest e hanno aggiunto anche delle API per give initial items che quindi per esempio in alcuni server in dei giochi particolari delle mappe particolari puoi avere un inventario all'inizio addosso proprio al giocatore senza dover mettere per forza una cesta in cui vai a prendere i primi oggetti o anche nei server si appunto potrebbe essere anche utile nel server non lo so all'inizio hai la guida del server che ti viene data trovi direttamente nell'inventario ora l'inventario in creative permette di cercare degli oggetti tramite il nome e la descrizione sono state aggiunte varie nuove texture per esempio ho notato nella partita in mind test della serie che hanno cambiato la texture al gravel poi sembra che abbiano leggermente modificato quella dei minerali ma ancora non l'ho verificata hanno cambiato un po' i colori della texture dell'alpha dell'acqua sia quella fissa che quella che scorre hanno aggiunto suoni alla porta inferro hanno aggiunto la possibilità che i fiori si muovano un deggino al vento quando è abilitato il waving plant shader è quello che fa muovere le foglie, le erbe ecc adesso si muovono anche i fiori come se ci fosse un vento costante diciamo ora le porte, questo è importantissimo sono fatte come se fosse una texture unica per tutti e due i blocchi e non fossero due accostate un tempo, per esempio nella mia prima serie c'era stato un glitch a un certo punto per cui una porta veniva sopra con la texture giusta e sotto sbagliata e certe volte si creavano degli errori di quel genere perché appunto era formata da due pezzi di texture era smizzata in due adesso è un unico pezzo quindi è molto più comodo anche per dei design un pochettino più avanzati di porte magari delle mod adesso non solo la home decor ma anche altre possibili mod ora l'erba può crescere anche sulla sabbia quella della spiaggia e sulle dune, quindi nel deserto ci sono più fiori che possono crescere nei vari biomi ora i biomi sono più ricchi e più variegati sono stati aggiunti gli aspen tree alle foreste dove c'erano i primi pini adesso ci saranno anche gli aspen tree ne ho piantato uno nella stagione non ce ne sponeranno probabilmente ma ne ho già iniziati a piantare ora nelle foreste appunto troviamo anche i fallen logs quindi i pezzi di alberi caduti per terra con sopra dei funghi che possono crescerci sopra questa potrebbe essere la spiegazione per cui i funghi sono spariti dal mio mondo se guardate l'episodio di... per me il prossimo sabato non so voi quando lo vedrete sono spariti tutti i funghi che avevo nella piantagione probabilmente adesso cresceranno solo sui log che sono depositati per terra quindi può darsi che funzioni in quel modo e non so se ci sono ancora i semi tra l'altro non ho controllato quello ah ecco da ora dentro la sandstone si possono trovare dei blob di dirt di terra o di sabbia quindi all'interno scavando dentro la sandstone potremmo trovare della terra o della sabbia cambiamenti per il gameplay invece l'interfaccia del libro è stata completamente riscritta per abilitare le pagine e la possibilità di sfogliarle e sono stati aggiunti il segnale in metallo e la scala in metallo che dovrebbero... la scala in metallo semplicemente ha uno stile diverso il cartello in metallo invece dovrebbe essere un po' come la porta in metallo modificabile solo dall'utente che l'ha messo ah visto? quello che dicevo prima sono stati rimossi i semi diciamo le spole dei funghi quindi non si possono più farmare cioè non si possono più coltivare ecco bisogna solo andare a cercarli è stata aggiunta la trapdoor di metallo che appunto può essere chiusa può essere utilizzata solo dall'utente che l'ha piazzata ora i libri possono essere copiati nella crafting grid quindi craftando un libro o un altro puoi copiare il volume che c'è scritto da uno all'altro ora è stato aggiunto un fuoco permanente che è una specie di... un fuoco che non si estingue non ha bisogno diciamo di alimentarsi credo che però sia in creative quindi non puoi crearlo e hanno aggiunto anche Flint and Steel quindi l'accendino ecco quello che puoi utilizzare per accendere per dar fuoco alle cose che però ho notato che non funziona con la TNT adesso ne parleremo ora la cobblestone può diventare mossy stone se è bagnata quindi per esempio se mettiamo della stone nell'acqua diventerà mossy stone dopo un po' mossy cobblestone non mi ricordo come si chiama comunque quella con i muschi sopra il funchio il muschio sopra la TNT è stata riscritta ha nuovi effetti ed è aggiornata da quanto ho capito adesso quando esplode non è che ne esplode una poi attiva quelle circostanti se c'è un mucchio di TNT prima di esplodere calcola quanta TNT c'è intorno e quindi fa un'esplosione unica e lagga molto di meno molto più performante di quanto non fosse in passato però si accende sempre con una torcia nonostante abbiano aggiunto Flint and Steel non l'accendi con Flint and Steel ma l'accendi con la torcia come era in passato sono stati aggiunti gli stone walls per tutti i tipi di stone quindi anche per i mattoncini per appunto i clay brick e per la mossy stone e forse anche per la sandstone ma non credo hanno aggiunto il fence gate per tutti i tipi di legno oltre alle fence per tutti i tipi di legno e ora la nave è leggermente più veloce ma non ho visto grandi cambiamenti in quanto a texture o funzionamento credo che sia stata semplicemente velocizzata è sistemata parzialmente ma non è ancora un granché e con questo andiamo a concludere diciamo la parte su quello che riguarda il changelog di Mindtest un altro discorso di cui volevo parlare è la possibilità in futuro di avere magari un canale su telegram ho visto che tantissimi youtuber adesso utilizzano telegram per inoltrare diciamo gli aggiornamenti e io lo trovo più funzionale di quanto è facebook uno perché facebook si nasconde tutte le cose nella home e disparisce nel senso che dopo un po' non vedi più che cosa c'è se metti l'immagine qualcuno lo vede se non la metti nessuno lo vede poi anche io vado pochissimo su facebook quindi diciamo che non ci sto molto spesso potrebbe essere un'idea quella di creare un canale telegram per gli aggiornamenti in futuro magari abbandonare un po' quella che è la pagina facebook anche perché non l'ho mai seguita tanto attivamente perché appunto non stando mai su facebook non mi viene neanche in mente di andare a pubblicare la roba mentre telegram utilizzandolo molto spesso appunto un'alternativa whatsapp perché tra l'altro funziona molto molto meglio di whatsapp non so se voi lo utilizzate e quindi questa è un'idea scrive nei commenti cosa ne pensate prima ho accennato pokemon go si sono un giocatore di pokemon go non sono di quelli fanatici non sono di quelli che è arrivato adesso io giocavo ingress prima sono passato pokemon go con alcuni amici che conoscevo di ingress prima ancora che fosse un fenomeno globale e non sono di quelli che lo criticano ma neanche di quelli che oh gg vasto pokemon è quello tipo una papera di metallo no io sono sempre stato appassionato di poco non ho seguito particolarmente le nuove generazioni perché non ho console quindi oltre al gameboy color ho giocato su emulatore e non avendo nintendo ds nintendo 3ds gameboy advance sp eccetera eccetera non non ho mai più continuato a giocare quindi non me ne frega niente di sole e luna nel senso si carini bellini però non ci giocherò mai se non tra qualche anno in cui uscirà un emulatore funzionante per 3ds che attualmente non c'è e uscirà la rom io lo comprerò anche il gioco ma non mi vado a comprare il 3ds solo per un gioco pokemon nel senso che andrei a spendere un fantastiliardo di soldi solo per un poco e quindi piuttosto faccio una donazione a the pokemon co infatti non lo so comprerò dei credit su pokemon go gli darò dei soldi in qualche modo ma non vado a comprarmi un console giusto per un gioco nel senso mi sembra poco sensato però attualmente ho il cellulare in riparazione da 2 settimane quindi sono indietrissimo sono un blu e sono fermo a livello 11 da 2 settimane più o meno non ho più continuato perché non ho avuto la possibilità ho finito gli esami e dico e giocherò un sacco invece no cellulare ciao quindi ce l'ho in riparazione e quindi se ne parlerà più in là detto questo credo che sia durato tantissimo un'infinità metterò qua sotto nella descrizione magari anche un con mario allora clicca qui così non ti ascolti tutto il mio sbarrinamento e niente probabilmente magari in futuro faremo degli altri vlog non lo so se vi possono interessare scrivetelo nei commenti sempre come sempre e niente se ci saranno delle altre cose di cui discutere probabilmente ce ne sarà uno per il contest quindi vi ricordo ancora di restare aggiornati niente io vi invito come sempre a iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto a restare in contatto a scrivere tanti commenti su quello di cui ho parlato e noi ci vediamo con il prossimo episodio ciao a tutti buona giornata ciao 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 ciao